Ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella, lasciare un mi piace e guardare il video fino alla fine. Grazie. Lutto nel mondo del giornalismo. È scomparsa, all'età di 59 anni, Alessandra Bianchi, per 4 anni nell'area comunicazione della Lega Pro. È andata via in silenzio, come era nel suo stile, dopo la malattia che non perdona. È stata ambasciatrice del calcio italiano in Francia. Oltralpe ha lavorato per l'Equipe, l'Equipe du Dimanche su Canal+, Le Parisienne e Radio Monte Carlo. In Francia è stata per anni il volto della Serie A, senza mai nascondere il suo amore per la Roma e per Francesco Totti, ex capitano dei giallorossi simbolo dello scudetto conquistato nel 2001, con Fabio Capello. Tifosa romanista, nel 1999 fu assunta dal Corriere dello Sport al cui timone era il compianto Mario Sconcerti e vi resta 5 anni. Nel 2004 l'amore per la Francia le fa scegliere un'altra strada. Un precorso professionale che culmina con gigli europei di calcio del 2026 diventa poi volto televisivo di Canal+. Ha lavorato per la Lega Pro che ha voluto ricordarla con un messaggio pubblico, raccontandola come una collega, giornalista di grande valore, persona straordinaria. E ancora, sei sempre stata una collega disponibile all'aiuto e hai sempre messo a nostra disposizione le tue capacità. In ognuno di noi rivivono tanti ricordi che non verranno mai meno, quelli legati al lavoro e quelli delle tue tante passioni. Il giornalismo, la Roma, i libri, Parigi, Modigliani. Ti sei contraddistinta sempre nello svolgere i tuoi impegni con serietà e disponibilità. Il tuo ricordo e le nostre risate saranno vivi per sempre. Ciao Alessandra, ci mancherai. Domani, giovedì 16 novembre. La Camera Ardente al Campus Biomedico di Roma dalle 8 alle 10. Alle 11 invece è in programma il funerale alla Cappella di San Nicola al Borghetto dei Pescatori, a Ostia.